la nevrosi è una malattia basata sulla paura paura di tutto della morte della pazzia della gente della solitudine del movimento del futuro per uno scrittore particolarmente paura di scrivere nella nostra storia letteraria abbiamo due insigni esempi di scrittori neurotici italo svevo che per oltre vent'anni riuscì a non scrivere nulla e carlo emilio gadda che imposta i suoi rari romanzi su trame robuste addirittura con un bel delitto dentro inevitabilmente si perde nel nulla la la nevrosi è una malattia subdola nel senso che l'ammalato continuamente oscilla tra la disperazione di non guarire mai più e la speranza di guarire miracolosamente da un giorno all'altro e così non si cura o si cura in modo sbagliato e arrischia davvero di rimanere imboltolato per sempre nel suo male comunque la cosa indispensabile perché un neurotico possa mai tornare ad una vita normale o quasi normale è la volontà di guarire io credo di non averla perduta se non nei brevi periodi delle peggiori crisi ho scritto infatti nel decennio della malattia un diario intitolato guerra in camicia nera il dramma l'uomo e la sua morte sulla fine di salvatore giuliano e alcuni racconti ma il romanzo ambizione ultima di un narratore non voleva uscire mi cominciai due e tutti e due si fermarono il primo perché mi pareva che difettasse dell'idea generale come direbbe cekov e il secondo perché mentre stavo lavorando mi venne una crisi talmente terrificante che mi bloccai al punto dove ero arrivato a quel tempo ero quasi certo che non avrei scritto mai più poi la dispirazione mi portò a tentare dopo che avevo provato e scartato decine di medici di ogni scuola e tendenza la psicoanalisi non credevo allora nella psicoanalisi e temo di non crederci neppure adesso per quanto riconosca che deve essere vero il principio su cui la psicoanalisi si fonda ossia l'idea che noi nella nostra primissima infanzia abbiamo amato e odiato in modo incontrollato e spaventoso abbiamo avuto paure terribili e mostruose gioie incontenibili attrazioni e ripulse prepotenti e tutto questo benché dimenticato è rimasto dentro di noi depositato nell'inconscio da dove continua ad influire in misura determinante sulla nostra condotta il punto di forza della psicoanalisi ad ogni modo non è tanto la dottrina quanto l'analista io ebbi la fortuna di trovare un uomo straordinariamente buono intelligente comprensivo attento amoroso e mi aiutò a uscire senza eccessivo sconforto dalle crisi più brutte del male mi condusse gradatamente a guardare dentro me stesso senza paura o vergogna di ciò che vi avrei potuto trovare perché qualunque cosa vi avessi trovato sarebbe stato sempre qualcosa di attinente all'uomo mi portò a mettere ordine nella mia coscienza coltivò e rinforzò la voglia che avevo di guarire sostenute da lui ricominciai a scrivere come un paralitico che dopo l'attacco di tromposi rieduca a poco a poco gli arti immobilizzati e li riporta a compiere i movimenti scelsi una ventina di racconti già scritti e li riscrissi tutti da cima a fondo rifacendoli anche tre o quattro volte in qualche punto modificandoli o approfondendoli arricchendoli di nuovi spunti ne venne fuori il volume un po di successo ora potevo provarmi a scrivere un nuovo libro l'analista mi consigliò di non insistere nei due tentativi di romanzo da anni riposti nel mio cassetto era preferibile che tentassi una storia del tutto nuova e non dovevo pretendere troppo da me stesso la cosa essenziale essendo che arrivassi comunque alla fine del lavoro non dovevo per alcun motivo fermarmi prima della fine così scrissi il male oscuro che è pressa poco il racconto della mia malattia lo buttai giù in calabria in un luogo isolato che si chiama capo vaticano impiegando poco più di due mesi di tempo senza gravi difficoltà era come se avessi scoperto il bundle d'un filo che mi usciva dall'ombelico io tiravo e il filo veniva fuori quasi ininterrottamente facevo un po male si capisce ma anche a lasciarlo dentro faceva male ricordavo le parole del prometeo incatenato che poi ho voluto mettere sul frontespizio del libro il racconto è dolore ma anche il silenzio è dolore la grande paura era di fermarmi e forse fu questa paura che mi fece trovare un modo di scrivere sembra abbastanza nuovo periodi interminabili che corrono per pagine e pagine senza punti con pensieri che si collegano l'uno all'altro in apparente libertà sono in fondo le associazioni delle appasicoanalisi ma con un costante desiderio di ordine di logica di chiarezza arrivato alla fine bisognava si capisce riscrivere tutto da capo magari più volte ma ormai la materia c'era e c'era anche l'arco del racconto prima di andare avanti però era necessario vedere un'altra cosa cioè se per caso altri non avessero già scritto nello stesso modo temevo joyce che conoscevo fino ad edalus non oltre misi in bella copia una trentina di cartelle e le portai a un critico di mestiere di quelli che sanno presso a poco tutto esaminò il mio scritto e giudicò che non vi era alcuna connessione con joyce caso mai ci potevano essere delle affinità con i francesi dello sguardo e del nuovo romanzo ma questo non mi faceva paura non li conoscevo ed erano troppo nuovi perché potessero essermi arrivati per via in diretta così continuai nel mio lavoro abbastanza tranquillamente mi pareva di avere alle spalle svevo e gadda ed era a mio avviso una buona compagnia naturalmente riscrivere il libro mi costò molto più tempo e fatica di quando non mi fosse costato scriverlo ci misi un anno e mezzo il titolo lo trovai nella cognizione del dolore di gadda era il male oscuro di cui le storie le leggi e le universi discipline delle gran cattedre persistono a dover ignorare la causa i modi e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere d'una vita più greve ogni giorno in medicato il male oscuro è e non è un romanzo come romanzo e la storia di un mezzo intellettuale di provincia che viene a roma sognando di scrivere un capolavoro e finisce per vivere ai margini del cinema tra i caffè di via veneto e quelli di piazza del popolo pieno di invidia per quelli che hanno fortuna la morte del padre e alcuni madornali errori clinici lo conducono alla nevrosi nonostante questo si sposa a una figlia continua a lavorare nel alla meno peggio scrivendo per il cinema spaesato il ridicolo è sempre più ammalato infine ricorre a uno psicoanalista che mette in luce la vera causa della nevrosi la censura troppo stretta di un superio rigido e pletorico curandosi assiduamente riesce a guarire ma una volta guarito scopre che la moglie lo tradisce ormai da alcuni anni è un colpo spaventoso che minaccia di travolgerlo tuttavia il dolore rimane dolore non si trasforma in angoscia è la prova della sua guarigione dalla nevrosi però non riesce ad accettare il male che gli hanno fatto si ritira in un luogo solitario come una nacoreta rifiutando la società e la famiglia sempre più pensando al padre alla fine identificandosi in lui nell'accettazione della morte come non romanzo il male oscuro è la descrizione di una nevrosi da angoscia e della cura per guarirla e delle esplorazioni nell'ingoscio per mezzo dei sogni e delle associazioni il mio libro ha dei precedenti illustri nella nostra narrativa prima di tutto la coscienza di zeno di svevo e poi la cognizione del dolore di gadda aborto di romanzo ma mirabile descrizione di un neurotico io seguo le loro strade però con un'assoluta indipendenza di modi narrativi e con una preparazione del tutto svincolata dalla letteratura poiché il racconto un'esperienza personale inoltre credo che nessuno prima di me si sia spinto così a fondo senza preconcetti né di vieti nell'analisi di un uomo se la malattia del protagonista era annidata nell'odio per il padre nelle funzioni sessuali nell'ansia di trovare dio nei meccanismi intestinali negli abissi della masturbazione nell'avvilimento di fronti ai radicali nell'esaltazione del primo bacio nel tesore dell'omosessualità nell'ossessione del cancro nella smodata ambizione nei torbidi stimoli segreti ebbene lì bisognava che io l'andassi a cercare col coraggio di arrivare il più possibile in fondo non dimenticandomi ciò che il mio analista mi aveva insegnato qualsiasi cosa fosse venuta fuori sarebbe stata comunque qualcosa attinente all'uomo ecco proprio questo è ciò che può dare una giustificazione al mio libro in particolar modo alle sue parti più crude e diciamo pure sgradevoli la validità verso tutti l'esplorazione di una parte di noi stessi che forse non abbiamo il coraggio di guardare ma c'è esiste in noi e nasconderla non serve che a renderci sempre più ammalati e infelici nonostante racconti la più straordinaria sequela di disgrazie che possono capitare a un uomo il male oscuro non è spero un romanzo deprimente e neppure noioso ha spero un continuo umorismo che si mescola anche agli avvenimenti più tragici e tristi non è certo un'invenzione mia svevo e gadda ci sono arrivati assai prima e meglio di me e d'altronde un nevrotico non potrebbe scrivere se non fosse sostenuto dall'umorismo una fortuna in mezzo a tanti malanni in quest'anno 1964 compio 50 anni ho un sacco di fobie non viaggio in treno né in aereo né in nave non salgo oltre il quarto piano delle case non mi chiudo nelle sale da concerto non vado ai funerali non mi intaso con la macchina nelle strade del centro non mangio frutta né verdura non saluto le persone antipatiche potrei continuare per un pezzo sono quindi ancora malato e credo che non guarirò mai però sono guarito per quel tanto che volevo disperatamente guarire ossia non ho più paura di scrivere 50 anni sono molti ed è doloroso pensare ad aver perduto in una malattia i dieci anni più fecondi della vita però a pensarci bene non sono stati del tutto perduti mi hanno insegnato a sentire e a riflettere che forse non sarei mai riuscito a fare se fossi stato sempre in buona salute sono abbastanza sicuro di me stesso mentre scrivo e so di essere moderno aperto a tutti i problemi del nostro tempo anche se l'idea di un bussolotto che gira intorno alla terra con un uomo dentro mi dà in fondo parecchio fastidio uscire dopo tanti anni con un nuovo romanzo che non è certo un romanzo facile e potrà essere preso anche in malo modo mi fa paura ma non molta so di avere giustamente tanti nemici a causa del mio carattere scorbutico e degli atteggiamenti spesso intransigenti a causa di questi stessi difetti però ho anche qualche amico e mi basta